E' Zubina! E' Zubina! Giorgia, fermo! E' Zubina! E' Zubina! E' Zubina! Sto tremando per lei! Buona la partita! Il primo del 99, dove è un tempo fino a questo momento di chiara differenza con 26 e 22! Dai, bravo! Primo, bravo! Vai! E' Zubina! E' Zubina! E' Zubina! Siamo alla rivoli questa prima serie che se la giudica con 26! Martina Fratelletti, stile di però pregaccia! Ma ferma!